Quasi 100 casi in più in una settimana. A Fasano si passa da 180 a 270 casi di positività al covid-19. La città della Selva trema a causa della crescita esponenziale di contagi da coronavirus, molti dei quali di variante inglese. Negli altri comuni della provincia invece le situazioni al momento è sotto controllo con comuni che fanno registrare una diminuzione dei casi positivi o un lieve aumento. Questo è quanto emerge dall'aggiornamento settimanale dei dati sull'emergenza covid a cura della Asla di Brindisi. Alla data del 21 febbraio 2021 in provincia di Brindisi risultano positive 1.071 persone. Brindisi città fa registrare una lieve diminuzione passando da 316 agli attuali 294 positivi. Continuano a scendere i numeri anche a Celle Messapica a quota 65 rispetto ai 94 della scorsa settimana. In lieve diminuzione anche i positivi a Torre Santa Susanna dopo l'emergenza del settimane scorse. Il numero dei positivi si attesta a 78. Sono 35 a Francavilla Fontana con qualche unità in più rispetto alla scorsa settimana e 34 a Sandonaci dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio tra giovanissimi. Resta a covid free invece Torchiarolo a piccolo centro del Brindisino. I comuni con maggiore valore di incidenza accumulativa sono Torre Santa Susanna, Brindisi, Villa Castelli, Oria, Celle Messapica, Francavilla Fontana. Dall'inizio della pandemia per la precisione del 24 febbraio 2020 al 21 febbraio 2021 la provincia di Brindisi ha fatto registrare 197 decessi. Per quanto concerne invece i dati riguardanti le positività riscontrate fra gli studenti di tutte le scuole l'ultimo report fermo alla settimana dall'8 al 13 febbraio indica 36 nuovi contagi tra studenti, 10 tra docenti, tre nuovi casi invece del personale ATA.